Ma ciao youtubini! Benvenuti ad un nuovissimo video di Gaetano Donati! Se non lo fate ancora seguitemi ora sul mio profilo Instagram gaetano.donati e qui su YouTube ha il profilo Gaetano Donati ed inoltre vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto mettere un non mi piace se non mi è piaciuto e di commentarlo Allora, cari youtubini, come ben sapete ieri è stata la finalissima la semifinale del Grande Fratello VIP 5 come già vi ho detto in un video precedente Rosalinda Cannavo è uscita dalla casa del GF VIP 5 quindi purtroppo non sarà una finalista poiché ha perso la sfida al televoto contro Stefania Orlando una volta uscita dalla casa del Grande Fratello ed è arrivata in studio in pratica Alfonso Signorini la fa parlare con Massimiliano Morra che ha delle cose da dirgli infatti gli chiede come si è permessa di dire che lui è gay e naturalmente è un fatto che risale a tanto ma tanto ma tanto tempo fa poiché non so se vi ricordate intorno a settembre barra ottobre proprio all'inizio del Grande Fratello VIP 5 Rosalinda disse nell'orecchio a Daiane e ad un'altra che in pratica Massimiliano Morra fosse gay la stessa poi in onda in diretta su Canale 5 durante una puntata o in prima serata dopo che Alfonso Signorini gli aveva chiesto più volte se fosse gay o meno lei ha sempre negato quando Massimiliano però l'altro ieri cioè ieri ha detto questa cosa a Rosalinda Rosalinda ha detto io ho detto che sei gay perché praticamente tutti sanno questo in più me l'hai detto anche tu cioè me l'hai confessato anche tu naturalmente Massimiliano Morra ha negato il tutto e infatti proprio oggi mi sembra di aver letto che ha deciso di querellare la ex Ado del Vesco allora intanto vi leggo anche un articolo che proviene da liberocotidiano.it e dice Grande Fratello VIP Rosalinda Cannavossi è gay gero da signorini fa il nome davanti a tutti si scatena l'inferno un altro grosso caso travolge il Grande Fratello VIP il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 che lunedì celebrerà la finalissima di un'edizione mostre la più lunga di sempre un altro grosso caso innescato dalle parole di Rosalinda Cannavò il vero nome di Ado del Vesco a quest'ultimo la pseudonimo con cui aveva iniziato l'esperienza nella casa del reality la Cannavò è stata la prima eliminata della puntata di ieri venerdì 26 febbraio insomma niente finalissima persa all'ultimo miglio ma una volta arrivata in studio è stata travolta dall'effetto del pubblico e anche di quello di Signorini che l'ha apprezzata moltissimo come concorrente infatti devo dire che mi piace tantissimo personalmente a me come concorrente Rosalinda all'inizio non mi piaceva tanto perché non so la vedevo un po' falsa perché prima diceva una cosa poi ne diceva un'altra infatti anche il fatto di Massimiliano eccetera e quindi non mi piaceva poi a lungo andare mi è piaciuta davvero tanto come personaggio poi però ecco le polemiche ad aprire le danze è stato Massimiliano Morra ex concorrente di questo GF VIP secondo cui al contrario la Cannavò non sarebbe così candida e ingenua come appare ma una stratega ma soprattutto Morra accoglie finalmente l'occasione di chiederle spiegazioni nella casa infatti Rosalinda aveva sostenuto che lui fosse gay e che a confermargli lo sarebbe stato proprio lui il diretto interessato quando Morra le chiede Lumi Rosalinda risponde candidamente era quello che io sapevo detto anche da te parole che spingono Signorini ad intervenire con una domanda a bruciapelo diretta dall'attrice a te risultava che lui fosse gay e ancora la Cannavò non arretra di un millimetro sì a me risultava così piccata piccata la replica di Morra che la incalza io non ti ho mai detto di essere gay forse te lo sei immaginato ma a quel punto il dibattito era irriducibile insomma impossibile trovare una mediazione tanto che la Cannavò di fatto ha smesso di rispondere a Morra ribadendo che però tutti possono restare della propria idea un'ulteriore conferma insomma davanti a un Morra sempre più stizieto alla fine Rosalinda si è comunque scusata con Massimiliano affermando che non avrebbe dovuto riferirlo infatti sì Rosalinda ha detto ho sbagliato perché non dovevo essere io a dirlo ma è una cosa che se volevi dovevi dirlo tu però in ogni caso io personalmente credo che Massimiliano non sia gay anch'io personalmente e poi voglio dire una cosa Massimiliano quando è stato nella casa del grande fratello VIP5 era praticamente una persona inutile cioè praticamente non faceva nulla si isolava sempre stava sempre in piazzetta Morra e praticamente non serviva a nulla cioè quando qualcuno gli chiedeva una spiegazione lui non rispondeva mai era sempre non neutrale ma non rispondeva nemmeno cioè e quindi pure quando c'è stata questa discussione che Rosalinda ha detto queste cose cioè era c'era lì e ascoltava senza senza ne offendersi né nulla cioè è un personaggio davvero molto particolare infatti personalmente non mi è piaciuto infatti ho sperato tante volte che venisse eliminato nella casa infatti poi alla fine così è stato allora cari youtubini per questa serata è tutto vi bacio e alla prossima un bacio dal vostro Gheziano Donati Gheziano Donati Gheziano Donati Gheziano Donati